Un goccio d'acqua perché la corsa dopo il gol fatta verso i tifosi è stata dispendiosa. Ci stava, lo meritavano, lo sentivo dentro e sono corso nella liberazione. La partita Salvatore, chiaro che il rammarico c'è. Sì, purtroppo potevamo fare meglio, qualche gol in più sicuramente, però parliamo sempre che siamo venuti a giocare a Perugia, quindi ci prendiamo un grosso punto e cerchiamo di imparare dagli errori. È chiaro che non si giudica un giocatore per un episodio sbagliato e mi riferisco al contropiede di Cuppone, ma ti ha detto qualcosa Gigi, uno contro tre, non ha visto Mero, l'è squizzato, ha visto la porta, che cosa vi ha detto? No, no, lo comprendo, è rimasto un attimino perplesso perché non l'aveva vista, però purtroppo se un attimino siamo più lucidi magari portavamo a casa i tre punti, può darsi. Ma nel complesso quanto sei contento di questa prestazione? No, no, sono contento anche perché ho ripagato la fiducia del mister, quindi sono contento per il gol, peccato per il risultato. Adesso ce la puoi dire perché sono passate due settimane, quanto è stato difficile dire di no ad una chiamata dalla B che era arrivata a tre giorni dalla chiusura del mercato? No, ormai diciamo che volevo solo pescare, avevo dato la parola, quindi sono rimasto volentieri. Facile dire di no ad una B. Sì, facile, speriamo che si conclude il prima possibile qualcosa. Una domanda da studio per Salvatore Aloi, chiaramente gliela riferisco io, Massimo o Fabio? Fabio, Fabio! No, come mai parlavamo della partita, come mai negli ultimi 20-25 minuti, anche un po' prima del gol e del pareggio, abbiamo subito così tanto comunque un Perugia che fino a quel momento non è che stava creando chissà che cosa, ci siamo abbassati un po' troppo secondo me. Fabio Ferraresi, da buon centrocampista, tra l'altro come te ex Avellino, ha detto ma come mai in quei 20 minuti vi siete abbassati così tanto permettendo al Perugia di prendere campo, Perugia che aveva praticamente creato poco, aggiungo io dopo il gol del pareggio siete tornati nuovamente ad attaccare. Lui parla del primo tempo? No, 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 dopo prima del gol del pari avete concesso tanto campo. Eh, giustamente come lui ben sa, la partita è ogni tanto attacchi tu, ogni tanto attacco io, ogni tanto difendo io, ogni tanto difendono loro. Quindi magari non uscivamo tanto alti, magari eravamo un attimino a corto di energie, temporeggiamo qualcosina, però credo che attaccandoli gli facciamo tanto male, però ci può stare.